In un'intervista rilasciata a Repubblica, Giorgia Meloni chiede il voto nel 2021 e queste sarebbero le priorità dell'opposizione in un momento di crisi pandemica come quello che stiamo vivendo. Perdonatemi ragazzi, ma io sono davvero senza parole. E questi erano gli stessi che ci criticavano sul rinnovo dello stato di emergenza in estate, dicendo che il virus fosse finito ed era ora di riaprire tutto senza alcun vincolo. Oggi invece accusano il governo di non aver fatto abbastanza. Ma con quale faccia? Io credo che sia il caso di smettere di richiedere a questi personaggi perché pensano solo al proprio orticello e non a portare fuori i cittadini imprese da un'emergenza che sta colpendo tutti i paesi del mondo. E solo pochi giorni fa la Francia addirittura ha dichiarato il lockdown nazionale. La Germania ha prodotto nuove restrizioni. È ora di essere seri e collaborativi. Purtroppo le opposizioni italiane in questo non aiutano. E io faccio appello a voi, fate girare questo video e cerchiamo di sollecitare anche loro. Grazie. Grazie.